A mari e oceani si deve un profondo rispetto. Sono la culla della vita e hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nell'ecosistema terra che noi oggi stiamo mandando a quel paese, ma questa è un'altra storia. Oltre all'inestimabile importanza naturale, andare per mare, per noi umani che ci addentriamo in un ambiente che non è il nostro, comporta sempre dei rischi. Le condizioni meteorologiche possono cambiare da un momento all'altro, si può andare incontro a fortissime correnti, tempeste, incagliarsi improvvisamente in una secca. È come se non bastasse noi ci mettiamo nel nostro con la pirateria. Quando si pensa ai pirati vengono subito in mente quegli avventurieri che hanno spadroneggiato nei Caraibi tra la metà del 1500 circa e i primi anni e del 1700, ma la pirateria è antica tanto quanto la navigazione. Per fare un esempio, Giulio Cesare venne rapito in giovane età da dei pirati e quando scoprì il riscatto che veniva chiesto per la sua libertà si offese perché lo riteneva troppo basso. Quindi diversi mari e oceani sono stati interessati da questo fenomeno, compreso il Mar Mediterraneo. Mi scuso subito per la pronuncia delle parole di derivazione turca di araba che ci sono in questo video perché anche se conosco tre lingue e un dialetto sono tutte europee, quindi ovviamente ho cercato la pronuncia di queste varie parole, ma senz'altro non saranno precise. Quello che passerà alla storia come Barbarossa per gli occidentali e Khairad-din, cioè protettore della fede per i turchi ottomani, nacque con il nome di Khsir a Mitilene sull'isola di Lesbo che nel 1462, dopo circa due secoli di dominazione genovese, venne conquistata dai turchi ottomani. Poco dopo la conquista si stabilì sull'isola il padre di Khsir, un ex militare che decise di abbandonare l'esercito, dedicarsi all'attività di vasaio e sposò una donna locale. La storia di Barbarossa è almeno inizialmente la storia di due fratelli. Infatti Khsir, nato tra il 1476 e il 78, data esatta, non è nota, era il più piccolo di quattro fratelli. Fu il maggiore, Arouche, a dedicarsi per primo all'attività di pirateria insieme a Elias, un altro dei fratelli. In uno dei numerosi scontri a cui andavano incontro però Elias morì e Arouche viene fatto prigioniero. Dopo aver ottenuto la libertà, qualche anno più tardi, decise di spostarsi nel 1503 nel Mediterraneo occidentale portando con sé Khsir. I due fratelli si fecero conoscere grazie ad una serie di audaci scorerie lungo le coste spagnole e della penisola italiana e il soprannome Barbarossa venne inizialmente dato da Arouche, forse per via della sua folta barba tendente a quel colore o forse per via dell'assonanza con Baba Arouche, dove Baba sta a significare padre o persona saggia ed è un appellativo che viene dato a persone autorevoli e verso le quali si prova rispetto. Per consolidare la loro posizione lungo la fascia costiera nord-africana era necessario conquistare degli insediamenti che fungessero da base operativa e fornissero porti sicuri, cosa che i fratelli fecero nel corso di un decennio con il numero di navi e persone sotto il loro comando in continuo aumento fino a conquistare nel 1516 la città di Algeri, tranne la fortezza del Peñon, eretta dagli spagnoli su una piccola isola all'imbocatura del porto. L'espressione continuò poi verso ovest dove sottomisero le popolazioni locali più bellicose e affrontarono spesso gli spagnoli e più est i genovesi. Subirono anche diverse sconfitte, in una di queste, combattendo contro gli spagnoli a Tremchen, Arouche perse la vita. Chesir non si perse d'animo, presi in mano la situazione, ereditò il nome di Barbarossa e intuendo che non poteva reggere da solo gli attacchi delle popolazioni locali, degli spagnoli e dei vari stati italiani, mandò avanti un processo che aveva iniziato suo fratello a Ruc, chiedendo la formale sottomissione all'impero ottomano. In pratica Algeri e tutti i territori conquistati sarebbero diventati una provincia dell'impero. Barbarossa avrebbe dovuto riconoscere l'autorità del sultano, mantenendo comunque una notevole libertà d'azione, il titolo di governatore di questi territori e ottenendo in cambio, in caso di bisogno, truppe e nati imperiali. Il sultano Selim I accettò di buon grado e, forte di questo notevole supporto, Barbarossa dedicò tutte le sue energie alla pirateria, anche se con qualche battuta d'arresto, tra cui la perdita nel 1529 di Algeri per mano di popolazioni mervere, che poi Barbarossa dovette riconquistare e nel farlo rase al suolo con un pesante cannoneggiamento alla fortezza del Pegnò, che venne coraggiosamente difesa dalla ridotta guarnigione spagnola per tre settimane. È in questo periodo che decise di farsi chiamare Khair Abdin, protettore della fede. Dopo la riconquista di Algeri, la città divenne la base delle scorerie di Barbarossa, che nel 1533 venne convocato a Costantinopoli per ricevere il titolo di comandante supremo della flotta ottomana dal successore di Selim I, il sultano Solimano I, figura ben nota non soltanto nel mondo ottomano, era conosciuto tra i turchi come Solimano il legislatore e tra gli occidentali come il Magnifico. Quindi da quel momento le azioni di Barbarossa non erano più semplici razzie, ma veri atti di ostilità da parte dell'impero ottomano, che non si fecero attendere. Già durante il ritorno da Costantinopoli risalì lo stretto di Messina e compì incursioni lungo tutto nel litorale occidentale della penisola italiana, seminando il panico da Reggio Calabria a Savona e facendo passare con un evidente gesto di sfida le sue navi molto vicine alla casa del grande emiraglio genovese Andrea Doria. I due si proteggeranno in diverse occasioni. Nell'estate del 1534 compì una nuova serie di incursioni sulle coste meridionali e centrali della penisola italiana, da Cosenza a Sperlonga, nelle cui vicinanze a Fondi tentò addirittura di rapire Giulia Gonzaga, vedova dell'espasiano Colonna e famosa per la sua grande bellezza, per donarla a Solimano I. La Gonzaga riuscì a scampare la cattura in una rocambolesca fuga notturna dell'ultimo minuto e per la rabbia Barbarossa misa a ferro e fuoco il territorio e le città presenti, che vennero saccheggiate per giorni. Prima di rientrare ad Algeri puntò su Tunisi, che venne conquistata quasi senza colpo ferire. La città si trova in un punto strategicamente fondamentale per il controllo dei traffici che transitano dal canale di Sicilia, che unisce i due bacini del Mediterraneo. La sua cattura da parte di Barbarossa era molto preoccupante e scomodò un pezzo da 90. Carlo V d'Asburgo, che per via dell'eredità di diversi rami dinastici era imperatore del sacro romano impero, arci duca d'Austria, re di Spagna e dei relativi possedimenti coloniali, sovrano di territori talmente estesi che si diceva che sui suoi domini non tramontasse mai il sole. Carlo, con l'appoggio di Papa Paolo III, organizzò un'imponente spedizione in cui partecipò in prima persona, forte di ben 400 navi al cui comando pose Andrea Doria. Salpati da Cagliari nel giugno 1535, Tunisi venne riconquistata dopo un mese di assedio e restituita a Mulaia Sam, precedente signore della città, anche se gli spagnoli tennero il possesso di un forte nelle vicinanze per scoraggiare future azioni da parte di Barbarossa, che da parte sua, per ritorsione di fronte alla perdita di Tunisi, assalì l'isola di Minorca distruggendo le fortificazioni del porto, razziando il territorio e catturando ben 6.000 abitanti che vennero venduti come schiavi. Poco dopo, nell'autunno dello stesso anno, lasciò il comando delle operazioni nel Mediterraneo occidentale ad un uomo di fiducia e entrò a Costantinopoli, dove venne accolto come un eroe. Per qualche anno concentrò le sue operazioni nell'Egeo, principalmente ad anno dei possedimenti veneziani nella zona, è in seguito nello Ionio, dove il 28 settembre 1538 affrontò nuovamente Andrea Doria nella battaglia di Prevesa e, nonostante l'inferiorità numerica della sua flotta, ne uscì vincitore, complice anche uno scarso impegno mostrato dall'ammiraglio genovese nello scontro, cosa che alimentò più di una male lingua. Nel tentativo di scalzare i pirati dalla loro principale piazzaforte, nell'ottobre 1541 Carlo V organizzò una spedizione direttamente su Algeri. Anche se le operazioni iniziarono bene, alla fine il tutto si risorse in uno dei più grandi fallimenti dell'imperatore. Il maltempo e le sortite dei pirati causarono pesanti perdite alla flotta e alle forze imperiali che alla fine dovessero rinunciare alla conquista della città. Lo stesso Carlo V rischiò di essere ucciso e, piccola curiosità, alla spedizione partecipò anche Hernán Cortés, il conquistador che era già rientrato da altre spedizioni di conquista o, per voglio dire, sterminio contro gli Aztechi in America centrale. L'anno successivo, approfittando del momento di debolezza di Carlo V, il re francese Francesco I gli dichiarò guerra, alleandosi con l'iperottomano di Solimano. Le operazioni sul mare vennero affidate a Barbarossa che nel 1543 portò l'imponente flotta ottomana che contava più di 600 navi a Marsiglia. Anche se Jair Addin voleva affrontare gli imperiali direttamente in mare, il re francese tentennava. La sua posizione, infatti, era piuttosto precaria. Da un punto di vista militare e politico, aveva senso allearsi con l'iperottomano per impegnare Carlo V su due fronti. Dopotutto anche la Francia era schiacciata tra i domini asburgici del Sacro Romano Impero e della Spagna. Ma dal punto di vista ideologico, l'alleanza tra la Francia Cattolica e l'impero ottomano-islamico causò non poco scompiglio in Europa. Infatti viene anche chiamata Empia Alleanza. Quindi Francesco si trovò costretto a dover assumere un atteggiamento ambiguo perché da una parte voleva certamente sfruttare la potenza ottomana ma dall'altra non voleva esporsi troppo, quindi non poteva dargli troppa corda. A un certo punto Barbarossa si stancò di queste esitazioni, insaccheggiò Nizza, fece svernare la flotta a Tolone che venne evacuata per l'occasione e nel 1544 rientrò a Costantinopoli non prima ad aver compiuto l'ennesima serie di razzie lungo i litorali della penisola italiana, questa volta concentrandosi principalmente sulle coste toscane. Fu la sua ultima grande spedizione. Circa due anni dopo essere rientrato a Costantinopoli venne colpito da una violenta febbre che lo portò alla morte il 4 luglio 1546 nel sontuoso palazzo che gli aveva donato Solimano I. Il mausoleo che conserva le spoglie di Barbarossa, costruito dal celebre architetto Nimar Sinan, si trova sulla sponda europea di Istanbul che fino agli anni 30 del 1900 era conosciuta come Costantinopoli. Pirata sanguinario per gli europei occidentali, eroe leggendario per i turchi, la fama di Barbarossa è ambivalente ma senza dubbio enorme per entrambe le parti. Una fama costruita principalmente sul mare. E qual era il mezzo più utilizzato al tempo? Nell'ambito delle navi da guerra l'imbarcazione più usata nel Mediterraneo nel 1500 era la Galea. Derivata dalle triremi greche e romane, aveva uno scafo snello e allungato, di dimensioni variabili ma lungo, generalmente intorno ai 40 metri e largo 5. La propulsione era affidata alle vele o in assenza di vento ai rematori. A differenza di triremi e quinquiremi però che avevano più file di rematori, le galee ne avevano soltanto una, anche se i remi potevano essere di notevoli dimensioni e dovevano quindi essere manovrati da più marinai che spesso erano galeotti. La galea non era molto alta rispetto al livello del mare e poteva caricare diversi cannoni. I cani più grossi erano posizionati a prua e quelli più leggeri lungo le fiancate. C'erano anche diverse varianti, come le fuste e le galeotte, versioni più piccole delle galee, o le bastarde, che invece potevano superare i 50 metri di lunghezza. I pirati tendevano a preferire imbarcazioni più veloci e leggere per sfuggire più agevolmente a nemici o a marine di altri stati, eccetera. Questo è un punto in comune con tutti i pirati. Nella battaglia di Lepanto del 1571, che vide contrapposti una serie di stati uniti nella cosiddetta Lega Santa e l'impero ottomano, la Repubblica di Venezia inaugurò la Galeazza, una nuova variante della galea, di maggiori dimensioni e pesantemente armata, che fu molto importante nel garantire la vittoria alla Lega Santa. La parentesi della Galeazza però non durò a lungo. Già dal secolo successivo venne sviluppato il galeone che spienò la strada ai grandi velieri che dominarono i mari fino all'avvento del motore a vapore. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!